Sembra quasi che il Mossiere non abbia ancora dato il via a un ipotetico Palio di Siena, ma siamo a Gubbio e i cavalli non c'entrano. Parliamo delle elezioni comunali, di come gli schieramenti in campo stiano attendendo, quasi osservandosi l'uno con l'altro, il momento giusto per decidere e rivelare il nome del proprio candidato a sindaco. Le elezioni amministrative non sono poi così lontane, poco più di due mesi al 26 maggio, con la data ultima di consegna delle liste che si fa sempre più ravvicinata. La prossima settimana però dovrebbe essere quella giusta. per avere un quadro più chiaro. Ad oggi è quella di Filippo Stirati l'unica candidatura certa, laddove è ancora incerto però il perimetro politico a sostegno del sindaco uscente. C'è il PD, uscito dalle primarie, rinfrancato soprattutto dal numero dei votanti, anche se a livello locale, come in quello regionale, i vertici del partito sostenevano Martina. L'impressione però è che il Partito Democratico non si presenti più come un cavallo scosso, per restare alla metafora senese, ma possa dare un sostegno più significativo alla candidatura Stirati, per la quale invece c'è da capire come si comporteranno le liste civiche a sostegno del progetto del 2014, che non hanno mai nascosto la propria ritrosia ad accettare il simbolo del PD nella coalizione. Socialisti e Sinistra Italiana confermano invece il proprio sostegno, ma per il resto c'è ancora molto da capire. Ai microfoni di TRG, Smacchi ha confermato che nel giro di una settimana comunque si scioglieranno i nodi. L'attesa più importante sembra gravitare intorno al centro-destra, dove è tornato in auge un nome che proprio da TRG era emerso alcune settimane fa, quello dell'imprenditore Marzio Presciutti Cinti, 41enne, originario di sigillo e anni residente a Gubbio, dove ha la sua famiglia e opera nel campo dell'agricoltura biologica. Non sarebbe la sua prima esperienza elettorale, dato che proprio un anno fa, per le politiche corse con la lista dieci volte meglio. Sul nome di Presciutti Cinti ci sarebbe l'unanime sostegno dei partiti di centro-destra locali, da Fratelli d'Italia, che lo avrebbe indicato, a Forza Italia, alla neonata Lega, da poca organizzata sia anche a Gubbio, con il nuovo responsabile Luca Ramacci. Mancherebbe il sì dei vertici regionali, anche se quella di Presciutti Cinti si profila comunque come una candidatura civica e quindi è prevedibile semmai una lista ad hoc sulla quale poi confluirebbe l'appoggio di quelle di partito. Secondo alcuni rumors, sarebbe tornato caldo anche il nome di Rocco Girlanda, oggi dirigente Anas, dopo i trascorsi in Parlamento, da sottosegretario anche al governo, che fu candidato nel 2006. Ma il fronte dei candidati potrebbe annoverare a sinistra anche due ex sindaci. Da un lato Orfeo Goracci, alla guida di Palazzo Pretorio dal 2001 al 2010, che al di là delle vicende processuali, starebbe maturando di tornare nel lagone dopo le riunioni degli ultimi mesi intorno al progetto denominato Gubbio Rinasce Libera, che però vorrebbe connotato da presenze civiche, prima che politiche. Dall'altro sembra pronto a ripresentarsi anche l'ex sindaco Diego Guerrini, a Palazzo Pretorio dal 2011 al 2013, con una lista civica alternativa. Infine, ma non da ultimi, i 5 Stelle, per i quali non ci sono dubbi sul fatto che correranno in piena autonomia, al di là di ogni coalizione, ma non è ancora sciolto il nodo del nome del candidato, con la capogruppo consigliare Sara Mariucci, al momento ipotesi più papabile. La prossima settimana, dunque, dovrebbe essere quella giusta per capire le mosse decisive e conoscere finalmente tutti i nomi dei contendenti della competizione elettorale del prossimo 26 maggio, prima di conoscerne anche e soprattutto programmi e obiettivi.